L'occupazione tedesca in Austria ha distrutto famiglie. Coloro che hanno reagito ne hanno forgiata una nuova. Anna Drake ha perso ciò che amava per colpa dei nazisti. Si è rifiutata di perdere di nuovo. La sua rabbia è incontenibile. In Lady Van Paa un'ira furiosa. La Resistenza non morirà. E finché ci sarà qualcuno da vendicare, i superstiti troveranno un modo.